Dramma nel dramma in un ospedale di Monbei dove questo venerdì l'unità di terapia intensive è andata in fiamme uccidendo 13 pazienti affetti da covid. E questo mentre il paese registra un altro piccone contagio. Oltre 300.000 nuovi casi si sono registrati nelle ultime 24 ore. Resta il dubbio tra gli addetti ai lavori che l'impennata della curva possa essere dovuta a un superuntore o alla variante B1617 tra le peggiori in circolo già in diversi paesi tra cui Stati Uniti e Singapore. Si sta diffondendo velocemente anche tra i giovani. Tra i pazienti in condizioni critiche abbiamo anche malati di 25 e 45 anni e intanto in tutto il paese si continuano a cremare i morti.